Il premio Strega torna a Verbagna anche quest'anno, il 19 e 20 giugno, con la cinquina, due giornate fitte di eventi che saranno annunciati prossimamente. Un appuntamento spiega l'assessore verbanese alla cultura Riccardo Brezza, che dà ancora più valore al lavoro di preparazione del dossier per Verbagna, capitale della cultura 2021. Intanto presentato il logo legato alla candidatura, elaborato dall'Ufficio Cultura del Comune, si ispira ai sassi del Teatro Maggiore, i colori rievocano il lago e i corsi d'acqua, i boschi e i parchi, le rigogliose fioriture, la pietra e il nostro passato industriale. La scritta utilizza la fonta ad alta leggibilità, utile in particolare per i dislessici. Nei giorni scorsi due partecipati incontri con le realtà del territorio sono andati bene, abbiamo avuto l'adesione di molti, le associazioni di categoria e i comuni del Verbano nei giorni scorsi, ieri la serata con le altre associazioni. Ci hanno offerto collaborazione e sostegno per la stesura del dossier e sotto il profilo pratico. Abbiamo riscontrato un buon entusiasmo, riferisce Brezza. Avviati pure una raccolta firme e un questionario a supporto della candidatura, strumenti per rendere partecipata la stessa, un requisito chiesto dal Ministero. Info presso gli uffici Urpa, Pallanza e Intra e alla biblioteca oppure sul sito del Comune. Il dossier andrà consegnato entro il 2 marzo, entro il 30 aprile, la comunicazione dei dieci finalisti. In quei due mesi non mancheranno i momenti di incontro perché, se Verbagna accederà alla fase finale, sarà chiamata a Roma a illustrare nel dettaglio il dossier. Si sta definendo un patto per la cultura del territorio che comunque andrà utilizzato a prescindere dal risultato finale, precisa Brezza. Diventare capitale della cultura italiana 2021 significa ottenere un contributo di un milione di euro che deve però fare da moltiplicatore per una serie di risorse che dovrebbero arrivare dal territorio. Tutto andrà a comporre il budget del dossier, da cui gli incontri con gli attori del progetto per la condivisione della parte economico-finanziaria.